Io coltivo praticamente solo frutta da sempre, mi sono un po' specializzato su quest'articolo qua, dalle varietà più antiche in particolare, tipo anche la mela campanina, che è una razza che ha almeno quattro secoli e che però ancora oggi è molto di moda, è molto buona sia cotta che crucia. Trovi del prodotto fresco, diciamo così, puoi trovare un prodotto che chi lo vende ti spiega come è stato fatto, che caratteristiche qualitative ha e, diciamo così, esprimere quello che è stato l'impegno e la fatica che ha dovuto fare per ottenere il meglio. Purtroppo a volte il meglio non ci ottene tanto perché siamo sottici. Il mio banco offre, diciamo così, dei prodotti ortofrutticoli, frutta, verdura, in questo periodo, fragole e aspartici per la maggior parte, diciamo così, della quantità perché è la stagionalità di questi due prodotti specifici. È roba naturale e non trattata e siete sicuri che portate a casa della roba vera. Perché a te, se vuoi assaggiare una fragole di questi, poi vuoi mangiare e senti la differenza. Perché questi, i miei prodotti, non sono nessun trattamento. Perché io le tengo, sono vero, le tengo giuste, trattate di trattamenti mai. La roba è più buona. Perché? E la gente, infatti, mi hanno detto che è tanto che non sapevano il sapore così delle fragole perché sono naturale.